Avete troppi soldi in tasca? Questo qua è il casino di Sanremo che compare sempre in televisione in concomitanza col festival. Se volete liberarvi di questi troppi soldi in tasca o li regalate a me o venite a prenderli in questo simpatico casino. E a fianco una chiesa, insomma la solita storia, mischiare il sacro con il profano. Beh, io preferisco questa.